Siamo a Perugia, via della pallotta numero 3, all'Osteria del Baccarà di Perugia. È un locale specializzato solo e esclusivamente sul monoprodotto Baccarà di alta qualità. Il nostro prodotto viene dallo sponsor Monti, che è il primo importatore di Baccarà in Europa. Questo locale è nato da un gruppo di amici che hanno voluto sviluppare questo progetto a Perugia, perché a Perugia il Baccarà era il pesce di Perugia. Quindi, vedendo che non c'era più nessun locale che faceva Baccarà in maniera adeguata e a certi livelli, abbiamo deciso di aprire questo locale. Il 6 marzo del 2017 abbiamo aperto e il locale sta andando bene, anche se Perugia è una città piccola, quindi ci vuole un po' di tempo prima di fare una clientela importante. che vedremo per il giro gastronomico dell'Umbria è la padellata. La padellata che è un piatto che si è inventato uno dei nostri soci e che oggi appunto tramite le telecamere di questo giro dell'Umbria gastronomico faremo vedere ai nostri clienti e quindi diciamo all'Umbria intera. Ciao, siamo qui per presentarvi un nuovo piatto dell'Umbria del Baccarà che si chiama la padellata. sono con la mia socia Giulia che può dire un pochino come ha tagliato i verdure. tagliamo una cipolla rossa sottile, un po' di peperoncino, un po' di vetola, peperoncino, l'aglio, e i nostri macaraboli. Adesso iniziamo a cucinare la nostra padellata. Prima mettiamo l'olio, facciamo soffriggere un pochino e aggiungiamo la cipolla. e aggiungiamo la cipolla e l'aglio e aggiungiamo la cipolla e l'aglio e aggiungiamo la cipolla e l'aglio. suonere il perroncino e poi mettiamo uccicurre il bietola. e aggiungiamo un pochino e aggiungiamo un pochino di olio della pietola. 5 minuti per ammorbidire. Devo ci fissare con un pochino di vino bianco. Una volta che abbiamo colto la nostra pietola e l'abbiamo tagliato fine, lo possiamo mettere e un po' di pomodori mettiamo un po' di olio Adesso possiamo aggiungere la vietola e subito mettiamo un pochino d'acqua. Abbiamo il baccalà che è assotto sale e molato, adesso è insalato da pelle, abbiamo le baccalà. Per due porzioni basta. Abbiamo pronti la nostra padellata. Abbiamo un pochino. Abbiamo un pochino. Abbiamo un pochino. Abbiamo un pochino. Ecco fatto. Abbiamo un pochino gastronomico di Lombria e Piazza e Ponte. Abbiamo un pochino. 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 Grazie a tutti.